Carissimi, questo breve video per invitarvi all'evento che si terrà venerdì 27 gennaio ad Abano Terme in provincia di Padova in cui sarò presente insieme ad altri relatori dalle 20 in poi presso l'hotel Alexander Palace nella sala congressi dell'hotel quindi vi aspetto appunto venerdì 27 gennaio dalle 20 ad Abano Terme in provincia di Padova già che ci sono vi avviso anche di quello che sarà l'evento successivo due giorni dopo il 29 di gennaio a Livorno presenterò il mio nuovo libro i Rothschild in Italia in Borgo Cappuccini 25 alle ore 18, dalle ore 18 in poi quindi vi aspetto, aspetto tutti quanti e insomma è un'occasione per abbracciarci e salutarci e quindi incontrarci Arrivederci Grazie